ho appena piantato i semini di paolonia che in realtà sembrava più mangime per pesci l'ho innaffiata come vedete ho bagnato anche la carta in modo da creare un contesto caldo umido effettivamente se guardate quello che resta qualche cosa di seme c'è ora proverò a metterlo in un vaso grande e a farlo crescere senza tutte le cure che sto mettendo in questo di qua la caratteristica buona di questo di questo contenitore di questa scaffalatura è che posso girarla in modo da fare prendere la luce da tutte le parti alle piantine qualora dovessero spuntare boh